Mi stress e sottomesso, scopri i ruoli e i giochi di piacere trasgressivo. Allora, chi vive la sessualità in maniera lineare e precisa, diciamo, si accontenta, diciamo, dell'atto in sé. Però poi ci sono persone che invece per motivazioni loro vanno alla ricerca di una sessualità non convenzionale, creativa. Ci sono delle persone che sono più portate, diciamo, alla pratica BDSM, bondage, discipline di sottomissione, sadismo e masochismo fondamentalmente. E vogliono vivere la loro sessualità in questo modo. Ovviamente questo nasce da imprinting. La sottomissione maschile vede due figure coinvolte che sono la mistress e lo slave o lo sottomesso. La mistress è la donna che occupa una posizione autoritaria e domina l'uomo, lo slave, che però tra l'altro vuole farsi dominare, no? In italiano i termini diventano padrone schiavo. Ovviamente l'attività sessuale è secondaria perché l'attività principale è la dominazione. E la donna tende a comandare l'uomo in ogni aspetto dell'atto sessuale e anche oltre. Questa dominazione non viene praticata soltanto in ambito sessuale ma anche al di fuori. Quindi il maschio è un po', come dire, un po' malato di testa perché vuole farsi dominare. Ci sono anche i money slave che addirittura pagano senza avere niente. Chi è lo slave? Gli slave sono persone, diciamo, con un'indole precisa, tendente alla sottomissione, probabilmente per un imprinting negativo nel rapporto con la madre. Gradiscono, talvolta essere sottomesse anche alla vita quotidiana, perché questo gli permette di amplificare il desiderio sessuale nei confronti della loro mistress, essere la loro padrona, tra virgolette. Ci sono uomini che puliscono la casa, lavano i piatti, lavano i vestiti della donna, feticisti dei piedi, insomma. Tutto ciò a loro genera libido. Ecco, quindi questo è... ovviamente questa pratica non è adatta a tutti, ma soltanto a chi ha questa indole, ovviamente. E dipende essenzialmente dall'imprinting. Non ha senso provare pratiche di questo genere se non ne senti il trasporto, perché è la prima... Ma vabbè, comunque. Iscriviti al canale YouTube Massimo Tremasco, seguimi su Instagram e su TikTok. E ci vediamo al prossimo video.